La Confcommercio di Pescara conferma una posizione molto critica nei confronti del progetto di riqualificazione dell'area di risulta presentato dal Comune e rilancia invece la sua idea per l'area della vecchia stazione presentando il progetto redatto dall'architetto Sabatino Catani per conto dell'Associazione dei Commercianti. Questa mattina in conferenza stampa il presidente di Confcommercio Pescara, Franco Danelli, ha illustrato la posizione dell'associazione. Nostro progetto prevede un solo multipiano di proprietà del Comune, ha detto Danelli, con facciate in vetro fotovoltaico, giardini verticali e 4.000 posti auto nei piani superiori e un piano terra intermodale per i servizi, il parcheggio gratuito dei disabili, gli autobus navetta elettrici. Il presidente ha spiegato che sia il Comune di Pescara tramite la società Pescara Parcheggia mantenere la gestione dei parcheggi cittadini mantenendo dunque la gestione dei 4.000 posti auto del multipiano senza alcuna modifica delle tariffe attuali. L'architetto Catani ha invece spiegato nel dettaglio il progetto di Confcommercio. La Confcommercio non dice no al progetto delle aree di risulta proposte dal Comune, ma formula una proposta alternativa, nettamente migliorativa per il Comune e per la città. Si realizza in particolare la realizzazione di un multipiano moderno che respira tutto verde, produce energia elettrica, disinquina l'aria, per cui questa è la parte principale del progetto. Per il resto ci sono campi sportivi, aree verdi, centri diciamo multiculturali e altri asset, tutto a favore del Comune.